Il mortale immortale di Mary Shelley lettura di audio raccontando 16 luglio 1833 questo è un anniversario memorabile per me in questo giorno compio il mio 323esimo compleanno l'ebreo errante certamente no più di 18 secoli sono trascorsi sul suo capo paragonato a lui io sono un giovanissimo immortale ma quindi sono immortale beh questa è una domanda che mi sono posto giorno e notte per 300 anni eppure ancora non posso rispondere ho scoperto un capello bianco tra i miei riccioli castani proprio oggi e questo significa sicuramente decadimento oppure potrebbe essere rimasto lì nascosto per 300 anni d'altronde alcune persone sono divenute completamente canute prima dei 20 anni racconterò la mia storia e sarà il mio lettore a giudicare per me racconterò la mia storia e così riuscirò a trascorrere alcune ore di una lunga eternità divenuta così estenuante per me per sempre può essere vero vivere per sempre ho udito di incantesimi in cui le vittime sono sprofondate in un sonno profondo per svegliarsi dopo un centinaio di anni freschi come mai ho udito dei sette dormienti così essere immortali non sarebbe poi gravoso ma oh il peso del tempo è infinito il tedioso passare delle incessanti ore quanto era felice il leggendario nur jahad ma torniamo al mio compito tutto il mondo ha udito parlare di cornelius grippa il suo ricordo è così immortale come le sue arti hanno reso mi tutto il mondo ha udito del suo allievo che inconsapevolmente allevò un rivoltante demonio durante l'assenza del suo maestro ed è stato poi da lui distrutto il racconto vero falso che sia di questo incidente fu riferito con molti disagi al celebre filosofo tutti i suoi studenti d'un tratto sparirono i suoi servi scomparvero egli non aveva vicino più nessuno che mettesse carboni sui suoi fuochi sempre accesi mentre dormiva o che badasse ai mutevoli colore delle sue pozioni mentre studiava falliva esperimento dopo esperimento perché un paio di mani erano insufficienti per completarli gli spiriti oscuri ridevano di lui per non essere in grado di trattenere un singolo mortale al suo servizio io allora ero molto giovane molto povero e anche molto innamorato ero stato per circa un anno allievo di cornelius sebbene fossi assente quando questo incidente accadde al mio ritorno i miei amici mi implorarono di non tornare nell'abitazione dell'alchimista tremai quando udì la terribile storia che mi raccontarono e non pretesi un secondo avvertimento quando cornelius arrivò e mi offrì una borsa di denaro per rimanere sotto suo tetto mi sentì come se mi avesse tentato satana stesso i denti mi battevano i capelli si erano rizzati fuggì tanto veloce quanto le mie ginocchia tremanti me lo permettevano i miei passi malfermi si diressero nel luogo verso cui per due anni erano sempre stati attratti una gorgogliante sorgente di acqua viva accanto a cui si intratteneva una fanciulla dai capelli scuri i cui occhi lampeggianti erano fissi sul sentiero che ero solito percorrere ogni notte non posso ricordare l'ora in cui avevo amato berta eravamo stati vicini e compagni di gioco fin dall'infanzia i suoi genitori come i miei erano di umili origini ma rispettabili il nostro attaccamento era stato una fonte di gioia per loro in un'ora disgraziata una febbre maligna si portò via sia la madre che il padre e berta divenne un'orfana lei avrebbe trovato una casa sotto il mio tetto paterno ma sfortunatamente l'anziana signora del vicino castello ricca senza figlia e solitaria dichiarò la sua intenzione di adottarla dall'ora in poi berta fu avvolta in sete abitò in un palazzo di marmo e fu guardata come se fosse stata baciata dalla fortuna ma nella sua nuova situazione tra i suoi nuovi compagni berta rimase sincera verso l'amico dei giorni più umili spesso visitava la casetta di mio padre e quando le fu porribito di andarvi vagava nel bosco vicino e mi incontrava nei pressi della fonte ombrosa spesso dichiarò di non aver doveri verso la sua protettrice uguali in sacralità a quello che legavano i due eppure io era ancora troppo povero per sposarmi e lei era esausta di tormentarsi a causa mia aveva un temperamento sprezzante ma ansioso e si arrabbiava per l'ostacolo che impediva la nostra unione ci incontrammo dopo un'assenza era dolorosamente afflitta quando ero via se lamentò amaramente e quasi mi rimproverò per essere povero risposi avventatamente sono onesto anche se povero se non lo fossi potrei rapidamente diventare ricco questa esclamazione produsse migliaia di domande temevo di sconvolgerla riconoscendo la verità ma lei si ritrasse da me e poi gettando uno sguardo di sdegno su di me disse tu pretendi di amare e hai paura di affrontare il diavolo per me protestai che avevo solo temuto di offenderla mentre lei si soffermava sulla grandezza della ricompensa che avrei ricevuto così incoraggiato rimproverato da lei guidato dal mio amore e dalla mia speranza ridendo delle mie paure con passi rapidi a cuor leggero tornai per accettare le offerte dell'alchimista e fu immediatamente installato nel mio ruolo trascorse un anno non entrai in possesso di alcuna trascurabile somma di denaro l'abitudine aveva messo al bando le mie paure e nonostante la più dolorosa vigilanza non avevo mai avvertito la presenza di alcuno zoccolo fesso nello studioso silenzio della nostra abitazione fu mai disturbato da ululati demoniaci continuavo i miei furtivi colloqui con berta e la speranza alleggiava su di me speranza ma non perfetta gioia perché berta fantasticava dicendo che l'amore e la sicurezza erano nemici e il suo piacere era separarli nel mio petto sebbene sincera di cuore era in qualche modo civetta nelle maniere e io ero geloso come un turco mi faceva dispetto in migliaia di modi eppure non riconosceva mai di essere nel torto mi avrebbe fatto impazzire di rabbia e poi mi avrebbe costretto a chiederle perdono a volte immaginava che non fosse abbastanza sottomesso e allora raccontava qualche storia di un rivale favorito alla sua protettrice era circondata da giovani vestiti di sete ricchi e allegri quali possibilità aveva l'allievo di cornelius dai tristi abiti paragonato a loro in un'occasione il filosofo fece tali ampie richieste del mio tempo che non fu in grado di incontrarla come volevo era impegnato con qualche imponente lavoro e fui costretto a restare giorno e notte ad alimentare le sue fornaci e osservare i suoi preparati chimici berta mi aspettò in vano presso la fontana il suo spirito altero si infuriò per questa incuria e quando alla fine mi allontanai furtivamente durante i pochi minuti destinati ad un sonnellino sperando di essere consolato da lei mi accolse con sdegno e mi congedò con disprezzo e giurò che qualsiasi uomo avrebbe potuto possedere la sua mano tranne colui che non era in grado di essere in due posti nello stesso momento per lei sarebbe stata vendicata e realmente lo fu nel mio squallido rifugio venne a sapere che era stata a caccia accompagnata da albert hoffer albert hoffer era il pupillo della sua protettrice e i tre passarono cavalcando davanti alla mia fumosa finestra mi parve che menzionassero il mio nome seguito da una risata di derisione mentre i suoi occhi scuri guardavano con disprezzo verso la mia abitazione la gelosia con tutto il suo veleno e il suo tormento entrò nel mio petto versai un torrente di lacrime al pensare che non avrei mai potuto dir la mia e subito augurai migliaia di maledizioni alla sua incostanza eppure dovevo ancora rimestare i fuochi dell'alchimista ancora badare i cambiamenti dei suoi indecifrabili farmaci cornellius aveva vegliato per tre giorni e per tre notti senza chiudere occhio il progresso dei suoi alambicchi era più lento di ciò che si aspettava ma a dispetto della sua ansia il sonno pesava sulle sue palpebre più volte aveva ricacciato il suo torpore con un'energia sovrumana più volte gli aveva fatto perdere la testa adocchiava i suoi crogioli malinconicamente non ancora pronto mormorava passerà un'altra notte prima che il mio lavoro sia compiuto uenzi tu sei vigile tu sei fedele hai dormito ragazzo mio hai dormito la notte scorsa guarda quel contenitore di vetro e l'equido che contiene è un color roso tenue nel momento in cui comincia a cambiare tonalità svegliami fino ad allora potrai chiudere gli occhi prima diventerà bianco e poi emetterà dei bagliori dorati ma non aspettare fino ad allora quando il colore rosa si affievolisce svegliami a malapena udile ultime parole biascicate come erano dal sonno eppure neanche allora non si arrendeva la natura uenzi ragazzo mio disse di nuovo non toccare il contenitore non portarlo alle labbra è un filtro un filtro per curare l'amore lo smetteresti di amare la tua berta attento non bere e quindi si addormentò con la sua testa venerabile affondata sul petto e a malapena udivo il suo respiro regolare per alcuni minuti osservai il contenitore la sfumatura rosea del liquido rimase immutata poi i miei pensieri vagarono visitarono la fonte e si soffermarono su migliaia di incantevoli scene che non si sarebbero più rinnovate serpenti e vipere erano nel mio cuore appena la parola mai cominciò a formarsi sulle mie labbra ragazza ingannevole falsa e crudele mai più avrebbe sorriso a me come quella sera sorrideva ad albert inutile detestabile donna non sarei rimasto invendicato avrebbe visto spirare albert ai suoi piedi e sarebbe morta sotto la mia vendetta aveva riso con sdegno e tripudio conosceva la mia miseria e il suo potere eppure che potere aveva lei il potere di eccitare il mio odio il mio profondo disprezzo il mio tutto ma non l'indifferenza potessi io raggiungere quella potessi guardarla con gli occhi indifferenti trasferire il mio amore verso qualcuno di più leale e sincero quella sarebbe davvero una vittoria un lampo luminoso dardeggiò davanti ai miei occhi avevo dimenticato il farmaco del maestro lo fissai con meraviglia lampi di mirabile bellezza più luminosi di quelli che il diamante emette quando su di lui ci sono i raggi del sole si riflettevano dalla superficie del liquido un aroma fragrante e piacevole si impadronì dei miei sensi il recipiente sembrava un globo di vivido fulgore piacevole all'occhio e invitante al gusto il primo pensiero istintivamente ispirato dai sensi più grossolani fu voglio devo bere portai il contenitore alle labbra mi curerà dall'amore dalla sua tortura e già avevo ingollato metà del più delizioso liquido mai gustato dal palato di un uomo quando il filosofo si mosse subalzai feci cadere il bicchiere e il fluido avvampò e rilucette sul pavimento mentre sentì cornelius afferrarmi la gola mentre gridava forte miserabile hai distrutto il lavoro della mia vita il filosofo era totalmente inconsapevole che io avessi bevuto una parte del suo farmaco la sua idea fu e io gliene diedi tacito assenso che avessi sollevato il contenitore per curiosità e che spaventato dalla sua luminosità e dai lampi di intensa luce che metteva lo avessi lasciato cadere non lo disingannai mai il fuoco della pozione si era estinto la sua fragranza era svanita si calmò come dovrebbe un filosofo davanti alle prove più dure e mi mandò a riposare non tenterò di descrivere il sonno di gloria e letizia che irrorarono la mia anima paradisiaca durante le restanti ore di quella notte memorabile le parole sarebbero pallidi e superficiali segni del mio appagamento o della felicità che avevo in petto quando mi svegliai camminavo sull'aria i miei pensieri erano in paradiso la terra sembrava il cielo e la mia eredità era un'estasi di delizia questo è essere curati dall'amore pensai vedro berta oggi e lei troverà il suo innamorato freddo e senza attenzioni troppo felice per essere sprezzante eppure quanto profondamente indifferente a lei le ore passarono il filosofo sicuro del fatto che aveva avuto successo una volta e credendo di poterlo fare ancora cominciò a ricombinare lo stesso farmaco un'altra volta si richiuse con i suoi libri e i suoi farmaci e io presi congedo mi abbigliai con cura mi guardai in un vecchio scudo lucidato che mi serviva da specchio mi sembrò che il mio aspetto fosse meravigliosamente migliorato mi affrettai verso i dintorni della città con la gioia nell'anima la bellezza del cielo e della terra intorno a me volsi i miei passi verso il castello potevo guardare verso le sue elevate torrette con la leggerezza di cuore perché ero curato dall'amore la mia berta mi vide da lontano mentre percorrevo il viale non so quale improvviso impulso animava il suo petto ma alla mia vista saltò con un balzo da cerbiato giù per le scale di marmo e si affrettò verso di me ma si era accorta di me anche un'altra persona la vecchia megera altolocata che chiamava se stessa sua protettrice ed era sua tiranna mi aveva visto doppicò su per la terrazza ansimando un paggio brutto come lei le reggeva lo strascico e le faceva aria mentre camminava in fretta e fermò la mia leggiadra fanciulla con un come ora mia sfacciata signorina per dove corri così in fretta torna la tua gabbia i falchi sono in circolazione berta strinse le mani i suoi occhi erano ancora incurvati verso la mia figura che si avvicinava vidi la disputa quanto detestavo la vecchia megera che frennava i gentili impulsi del cuore di berta che si inteneriva fino ad allora il rispetto per il suo rango mi aveva fatto evitare la signora del castello ora sdegnavo queste banali considerazioni ero curato dall'amore e mi levavo al di sopra di tutte le umane paure mi affrettai e rapidamente raggiunsi la terrazza come appariva adorabile berta i suoi occhi lampeggiavano fuoco le sue guance risplendevano d'impazienza e rabbia lei era migliaia di volte più graziosa e affascinante che mai io non l'amavo più o no io l'adoravo la veneravo la idolatravo quella mattina era stata perseguitata con una veemenza maggiore del solito perché consentisse ad un immediato matrimonio con il mio rivale era stata rimproverata per l'incoraggiamento che aveva mostrato era stata minacciata di essere buttata fuori di casa con disonore e vergogna il suo spirito si sollevò battagliero la minaccia ma quando ricordò lo scherno che aveva gettato su di me e come forse aveva così perso colui che lei ora guardava come il suo unico amico pianse di rimorso e di rabbia in quel momento apparvi io oh wincy esclamò portami al letto di tua madre presto fammi allontanare da questi detestabili lussi e dello squallore di questa nobile dimora portami alla povertà e alla felicità la vecchia dama era senza parole per la furia e proruppe in invettive solo quando eravamo lontani sulla strada per la mia casetta natale mia madre ricevette la bella fuggitiva scappata da una gabbia dorata verso la natura e la libertà con tenerezza e gioia mio padre che l'amava l'accolse con tutto il cuore fu un giorno di felicità che non aveva bisogno della giunta della celestiale pozione dell'alchimista per impregnarmi di delizia poco dopo quel giorno ricco di eventi divenne il marito di berta cessai di essere l'allievo di cornelius ma continuai ad essere suo amico mi sentì sempre grato nei suoi confronti per avermi inavvertitamente procurato quel delizioso sorso di lisir divino che invece di avermi curato dall'amore triste cura solitario e triste rimedio per mali che sembrano benedizioni alla mia memoria ne aveva ispirato con coraggio e risoluzione conquistando così per me un tesoro inestimabile come la mia aberta richiamo spesso la mia mente con meraviglia quel periodo di ebrezza ipnotica la bevanda di cornelius non aveva svolto il compito per la quale lui affermava di averla preparata ma i suoi effetti furono molto più potenti ed incantatori di quanto le parole possano esprimere erano svaniti gradualmente ma indugiarono a lungo e dipinsero la vita con sfumature di splendore berta spesso si meravigliava dalla mia leggerezza di cuore e della mia inconsueta gaiezza dato che prima ero piuttosto serio o persino triste nella mia disposizione mi amava di più per il mio temperamento brioso e i nostri furono giorni alati di gioia cinque anni dopo venne improvvisamente convocato al capezzale del morente cornelius mi aveva mandato a chiamare in fretta evocando la mia immediata presenza lo trovai disteso sul suo giaciglio indebolito fino alla morte tutta la vita che ancora gli rimaneva animava i suoi occhi penetranti ed erano fissi su di un recipiente di vetro pieno di un liquido rosato guarda disse con voce rotta proveniente da dentro la vanità dei desideri umani una seconda volta le mie speranze stanno per essere coronate una seconda volta saranno distrutte guarda quel liquido ricordi cinque anni fa avevo preparato lo stesso con lo stesso successo allora come ora le mie craventato via da me e ora è troppo tardi parlava con difficoltà e ricadde sui suoi cuscini non potei fare a meno di dire come reverendo maestro può una cura per l'amore riportarvi in vita un debole sorriso balenò sul suo volto mentre ascoltavo con fervore la sua risposta una cura per l'amore e per tutte le cose l'elisir dell'immortalità se io potessi ora berlo viverei per sempre mentre parlava un lampo dorato rilucette dal fluido una ben nota fragranza si impossessò dell'aria lui si sollevò debole come era la forza sembrò miracolosamente ritornare nel suo corpo allungò la mano una sorda esplosione mi fece sussultare un raggio di fuoco schizzò dall'elisir e il recipente di vetro che lo conteneva fu scosso fino agli atomi voltai i miei occhi verso il filosofo era caduto indietro gli occhi vetrificati i lineamenti rigidi era morto ma io io vivevo e dovevo vivere per sempre così disse lo sfortunato alchimista e per alcuni giorni credetti alle sue parole ricordavo la gloriosa ebrezza che aveva seguito il mio sorso rubato riflettei sui cambiamenti che avevo sentito nel mio corpo nella mia anima la rimbalzante elasticità dell'uno la positiva leggerezza dell'altro mi ero esaminato in uno specchio e non potei percepire alcun cambiamento nel mio aspetto nello spazio dei cinque anni che sono trascorsi ho ricordato le radiose sfumature il gradevole aroma di quella deliziosa bevanda degni del dono che era capace di donare ero quindi immortale alcuni giorni dopo risi della mia credulità il vecchio proverbio che nessuno è profeta nella propria terra si avverrò per me e per il mio defunto maestro lo amavo come uomo lo rispettavo come saggio ma deridevo l'idea che lui potesse comandare i poteri dell'oscurità e risi al timore superstizioso con cui era guardato dal volgo egli era un saggio filosofo ma non aveva dimestichezza con gli spiriti se non quelli rivestiti di carne e di sangue la sua scienza era semplicemente umana e la scienza umana persuasi rapidamente me stesso non poteva conquistare le leggi della natura al punto di imprigionare per sempre l'anima all'interno della sua abitazione carnale cornelius aveva distillato una bevanda che rinfrescava l'anima più inebriante del vino più dolce e più fragrante di qualsiasi frutto possedeva probabilmente forti poteri medicinali donando letizia al cuore e vigore alle membra ma i suoi effetti si sarebbero esauriti già erano diminuiti nel mio corpo ero un uomo fortunato di aver traccannato salute e buon umore e forse lunga vita dalle mani del mio maestro ma la mia buona fortuna finiva lì la longevità è molto ben distante dall'immortalità continuai a nutrire questa convinzione per molti anni qualche volta un pensiero mi attraversava la mente si era veramente ingannato l'alchimista ma la mia abituale credenza era che avrei dovuto incontrare il destino di tutti i figli d'adamo al momento stabilito un po tardi ma ancora in un'età naturale eppure era certo che mantenevo un aspetto meravigliosamente giovanile venivo deriso per la mia vanità nel consultare lo specchio così di frequente ma lo consultavo in vano la mia fronte era intatta le mie guance i miei occhi la mia intera persona continuava ad essere intatta come nei miei vent'anni ero turbato guardavo la bellezza sbiadita di bertha sembravo più suo figlio che suo marito gradualmente i nostri vicini cominciarono a fare simili osservazioni e alla fine scoprì che mi avevano dato il nome di scolaro stregato anche bertha cominciò a sentirsi a disagio diventò gelosa ed irritabile e alla lunga cominciò a dubitare di me non avevamo figli eravamo nel complesso tutto uno per l'altra e sebbene diventando più vecchia il suo spirito vivace divenne un po alleato della stizza e la sua bellezza tristemente diminuiva l'amavo nel mio cuore come la signora che idolatravo la moglie che avevo cercato e conquistato con un tale perfetto amore alla fine la nostra situazione divenne intollerabile bertha aveva 50 anni io 20 avevo con vergogna in qualche misura adottato le abitudini di un'età più anziana non mi buttavo più nelle danze in mezzo ai giovani ma il mio cuore sussultava con loro mentre trattenevo i piedi e una povera figura facevo in mezzo ai nestore del nostro villaggio ma prima del tempo in cui parlo le cose erano cambiate venivamo universalmente evitati venivamo o perlomeno venivo accusato di aver avuto una maligna familiarità con qualche supposto amico del mio vecchio maestro la povera bertha era compatita ma evitata io venivo guardato con orrore ed avversione che cosa bisognava fare sedevamo presso il fuoco invernale la povertà si faceva sentire perché nessuno avrebbe comprato i prodotti della mia fattoria e spesso ero stato forzato a viaggiare per venti miglia verso qualche luogo dove non ero conosciuto per sbarazzarmi della nostra proprietà è vero che avevamo risparmiato qualcosa per i tempi avversi e quei giorni erano arrivati sedevamo presso il nostro focolare solitario il giovane dal cuore anziano e la sua antica moglie di nuovo bertha insisteva per conoscere la verità ricapitolò tutto quello che aveva sentito dire su di me e aggiunse le sue osservazioni tentò di farmi sciogliere l'incantesimo mi descrisse quanto più accettabili fossero i suoi capelli grigi dei miei riccioli castani decantò la reverenza e il rispetto dovuti all'età quanto era preferibile al riguardo minimo riservato ai semplici fanciulli potevo immaginare che gli spregevoli doni della giovinezza e della bella apparenza fossero più importanti del disonore dell'odio e del disprezzo no alla fine sarei stato arso come trafficante di magia nera mentre lei a cui non mi ero degnato di comunicare alcuna porzione della mia buona fortuna poteva essere lapidata come mia complice alla lunga mi insinuò l'idea che dovevo condividere il mio segreto con lei e conferire a lei i benefici che io stesso godevo o lei mi avrebbe denunciato e poi scoppiò in lacrime così accerchiato mi sembrò che fosse la maniera migliore di dire la verità gliela rivelai il più dolcemente possibile e parlai solo di una lunga vita non dell'immortalità la cui rappresentazione in realtà coincideva di più con le mie stesse idee quando finì mi alzai e dissi e ora mia berta denuncerai l'amore della tua giovinezza non lo farai lo so ma è troppo difficile mia povera moglie che tu soffra per la mia cattiva sorte e le arti maledette di cornelius ti lascerò tu hai ricchezza sufficiente e gli amici torneranno in mia assenza me ne andrò giovane come sembro e forte come sono posso lavorare e guadagnarmi il pane tra gli estrani che non sospettano e non sanno ti ho amato nella giovinezza dio mi è testimone che non ti abbandonerei nella vecchiaia se la tua sicurezza e la tua felicità non lo richiedessero presi il mio berretto e mi mossi verso la porta in un attimo le braccia di berta furono intorno al mio collo e le sue labbra si premettero sulle mie no marito mio mio winzi disse non te ne devi andare da solo portami con te ce ne andremo da questo posto come dici tu tra gli estranei saremo senza sospetti e al sicuro non sono così vecchia da farti vergogna mio winzi e oso dire che il fascino sparirà presto e con la benedizione di dio sembrerai più anziano come ti si compete non mi dovrai lasciare ricambiai l'abbraccio della buona anima di cuore non lo farò mia bertha solo per il tuo bene avevo pensato questa cosa sarò il tuo sincero fedele marito fino a che sarai con me e farò il mio dovere con te fino alla fine il giorno dopo ci preparammo segretamente ad emigrare fumo costretti a fare molti sacrifici economici non poteva essere evitato realizzammo una somma perlomeno sufficiente a mantenerci fino a quando bertha avrebbe vissuto e senza dire addio a nessuno lasciamo il nostro paese natale per rifugiarci in una remota parte della francia occidentale fu una cosa crudele portare via la mia bertha dal suo villaggio natale e gli amici della sua giovinezza verso un nuovo paese una nuova lingua nuove abitudini lo strano segreto del mio destino mi rendeva questo spostamento immateriale ma provavo profonda compassione per lei ed ero felice di capire che trovò ricompensa per le sue sfortune in una varietà di piccole e ridicole circostanze lontana dai cronisti di tutte quelle storie cercò di diminuire l'apparente disparità delle nostre età con migliaia di arti femminili belletto abiti giovanili e un'acquisita giovinezza di maniere non potevo arrabbiarmi non indossavo anch'io una maschera perché litigare con la sua perché aveva meno successo mi addoloravo profondamente quando ricordavo che questa era la mia bertha che io avevo amato così caramente e avevo conquistato con tanto trasporto la ragazza dagli occhi e dai capelli neri con sorrisi di incantevole astuzia e passo da cerbiata questa leziosa smorfiosa e gelosa vecchia avrei dovuto rispettare le sue ciocche bianche e le sue guance scolorite ma così era opera mia e lo sapevo ma non deploravo meno per questo quel genere di umana debolezza la sua gelosia non dormiva mai la sua principale occupazione era tentare di scoprire che a dispetto delle apparenze esteriori stavo anch'io diventando vecchio penso sinceramente che la povera anima mi amasse profondamente nel suo cuore ma mai una donna ebbe un modo così tormentoso di manifestare l'affetto dettava di scorgere rughe sul mio viso e decrepitezza nel mio passo mentre io saltellavo in giro con giovanile vigore il più giovane tra una ventina di giovani non osai mai rivolgermi ad un'altra donna in un'occasione immaginando che la bella del villaggio mi guardasse con favore mi comprò una parrucca grigia il suo argomento costante tra le sue conoscenze era che sebbene sembrassi così giovane c'era la rovina in agguato nel mio corpo ed affermava che il peggior sintomo su di me era la mia apparente salute la mia giovinezza era una malattia disse ed io dovevo in ogni momento essere pronto se non ad un'improvvisa e terribile morte perlomeno a svegliarmi una qualche mattina con i capelli bianchi e curvo su tutti i segni degli anni avanzati la lasciai parlare spesso la seguivo nelle sue congetture i suoi avvertimenti mi risuonavano dentro insieme alle mie incessanti speculazioni riguardo al mio stato e sviluppai un fervido sebbene doloroso interesse ad ascoltare tutto ciò che il suo rapido acume e l'eccitata immaginazione potevano dire sull'argomento perché indugiare su queste minute circostanze vivemo insieme per lunghi anni berta divenne allettata e paralitica l'accudivo come una madre può accudire un figlio diventò scontrosa e continuava ad insistere su un punto quanto a lungo le sarei sopravvissuto è sempre stata una fonte di consolazione per me aver fatto il mio dovere scrupolosamente con lei c'era stata nella mia giovinezza e c'era nella mia vecchiaia e alla fine quando gettai la zolla sopra il suo cadavere piansi perché sentivo che avevo perso tutto ciò che veramente mi legava all'umanità da allora quante sono state le mie attenzioni e preoccupazioni quanto pochi e vuoti i miei divertimenti mi fermerò qui nella mia storia non proseguirò oltre un marinaio senza timone o bussola scosso su di un mare in tempesta un viaggiatore perduto in una vasta brughiera senza punti di riferimento stelle tale sono stato più smarrito più disperato che mai una nave in avvicinamento un balenio da qualche casupola lontana potrebbe salvarlo ma io non ho luci tranne la speranza della morte morte amica misteriosa dal cattivo sembiante dell'umanità perché solo tra tutti i mortali mi hai allontanato dal tuo protettivo braccio o per la pace della tomba il profondo silenzio della tomba incorniciata di ferro quel pensiero smetterebbe di lavorare nel mio cervello e il mio cuore non batterebbe più per le emozioni variate solo da nuove forme di tristezza sono io immortale torno alla mia prima domanda in primo luogo non è più probabile che la bevanda dell'alchimista fosse tesa alla longevità piuttosto che la vita eterna tale è la mia speranza e poi si è ricordato che io ho bevuto solo mità della pozione da lui preparata non era necessario l'intero per completare il sortilegio aver bevuto a metà l'elisir dell'immortalità è non essere che per metà immortale il mio per sempre così è tronco e nullo ma di nuovo chi può numerare gli anni di mezza eternità spesso tento di immaginare per quale regola possa essere l'infinito diviso qualche volta fantastico che l'età stia avanzando su di me ho trovato un capello bianco pazzo mi lamento sì la paura dell'età e della morte spesso striscia freddamente nel mio cuore e più io vivo più temo la morte anche se abborrisco la vita tale enigma è l'uomo nato per morire quanto da battaglia come faccio io alle leggi stabilite dalla sua natura ma per questa anomalia di sentimenti sicuramente dovrò morire la medicina dell'alchimista non sarà al sicuro dal fuoco spada e acque soffocanti ho fissato le azzurre profondità di molti placi di laghi e il tumultuoso scorso dei potenti fiumi e mi sono detto la pace abita quelle acque eppure ho allantonato i miei passi per vivere ancora un altro giorno mi sono chiesto se il suicidio sarebbe stato un crimine per uno a cui solo così potevano essere aperti gli ingressi dell'altro mondo ho fatto tutto tranne presentarmi come soldato duellante oggetto di distruzione ai miei no non i miei consimili mortali e perciò mi sono ritratto loro non sono miei simili l'inestinguibile potere della mia vita nel mio corpo e la loro effimera esistenza ci pone i poli opposti non potrei alzare una mano contro il più misero o il più potente tra di loro così ho vissuto per molti anni da solo e stanco di me stesso desideroso della morte eppure mai morente un mortale immortale né l'ambizione né l'avarizia possono entrare nella mia mente e l'amore ardente che attanaglia il mio cuore non sarà mai ricambiato non troverà mai un suo pari su cui consumarsi vive lì solo per tormentarmi in questo stesso giorno ho ideato un piano con il quale potrei terminare tutto senza suicidio senza fare di un altro uomo caino una spedizione a cui un corpo mortale non potrà mai sopravvivere anche se dotato della giovinezza e della forza che abita al mio così metterò alla prova la mia immortalità e riposerò per sempre oppure tornerò meraviglia e benefattore della specie umana ma prima di andare una miserabile vanità mi ha mosso a scrivere queste pagine non vorrei morire e non lasciarmi dietro alcun nome tre secoli sono passati da quando ho ingurgitato la fatidica levanda un altro anno non trascorrerà incontrando giganteschi pericoli combattendo contro la forza del gelo nelle loro case afflitto dalla fame dalla fatica e dalla tempesta cedo questo corpo una gabbia troppo tenace per un'anima che è assetata di libertà agli elementi distruttivi dell'aria e dell'acqua e invece se sopravvivrò il mio nome sarà ricordato come uno dei più famosi tra i figli dell'uomo e raggiunto il mio compito dovrò adottare misure più risolute spargendo e anichilendo gli atomi che compongono il mio corpo mettere in libertà la vita che vi è imprigionata dentro e così crudelmente impedita di liberarsi da questa oscura terra verso una sfera più congeniale alla sua essenza immortale grazie per l'ascolto se questo audio racconto ti è piaciuto metti un mi piace iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite inoltre puoi trovarmi sia sulla mia pagina facebook che sul gruppo voce e penna youtubers noi ci sentiamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti